Una radio con una lametta e una matita. Funziona senza energia elettrica e riceve segnali in modulazione di ampiezza, la cosiddetta AM, dove trasmette anche la RAI. La costruzione della radio a lametta è molto semplice e nella descrizione del video potete trovare tutti i particolari. Comunque vi serve un tubo di plastica di circa 5 cm di diametro, dove farete un avvolgimento di filo di rame smaltato, qui servono circa 150 giri. Su questa parte lo smalto del filo di rame viene abraso per permettere a questa asta di rame anch'essa di fare contatto. Vi servono poi un muzzicone di matita, una lametta da barba e 4 fermagli per la carta. I fermagli rappresentano gli attacchi, quello di sinistra per la messa a terra della radio, quindi questo filo va collegato a una palina di messa a terra oppure all'interno delle abitazioni. Può andare bene anche il tubo di un termosfifone o il tubo dell'acqua, purché siano in metallo. Quest'altra graffetta a fermaglio di destra rappresenta l'attacco per il filo della nostra antenna. I due fermagli centrali sono gli attacchi per le cuffie che devono essere ad alta impedenza, quindi o si trovano delle cuffie d'epoca degli anni 20 o 30 o delle cuffie o degli auricolari nuovi, sempre ad alta impedenza, anche se in Italia sono difficili da trovare. Lo schema di collegamento tra le varie sezioni è molto semplice e lo potete vedere nell'immagine che adesso mi soffermerò a mostrarvi. Il punto dolente di questo tipo di radio è rappresentato dall'antenna. Antenna che negli anni in cui queste radio erano diffuse e quindi durante la seconda guerra mondiale, infatti il nome in inglese è detto Foxorradio, letteralmente la radio della buca, si può tradurre anche come radio della trincea proprio perché era costruita dai soldati americani, si dice per la prima volta da un soldato americano e poi veniva usata perché era semplice da fare, semplice da smontare e da nascondere. In quegli anni per l'antenna venivano usati anche i fili stendi biancheria, i fili di ferro, stendi biancheria oppure addirittura le reti metalliche dei letti. Diciamo però che il modo classico e più performante per costruire l'antenna lo potete vedere in questa immagine, cioè un lungo filo di rame che viene isolato nelle due estremità con due isolatori che possono essere di plastica, di vetro, di ceramica. Vicino a una delle due estremità va collegato un ulteriore filo che deve scendere fino all'attacco della radio. Questa antenna deve essere posta il più in alto possibile, quindi tra due case o tra una case e un albero ad alto fusto e va ad avere una lunghezza che come minimo deve essere di 20-30 metri. Più lunga è e più in alto viene posta l'antenna, migliore sarà il segnale ricevuto. Questo tipo di radio, radio appunto a lametta, ha il principio di funzionamento simile a quello delle radio a galena. Qui possiamo vedere una radio a galena del 1924 e quest'altra di sinistra del 1923. In queste radio il compito di rivelare il segnale di rivelare il segnale a radiofrequenza viene dato dal contatto tra il minerale di galena, che è questo, e un piccolo filo di acciaio che va a graffiare, a toccare il minerale di galena. Invece nella nostra radio a lametta il compito di rivelare il segnale radiofrequenza è dato dal contatto tra la graffite della matita e la nostra lametta da barba. Seguiranno dei video per i test dimostrativi del funzionamento.